I ragazzi dell'equipaggio danno una dimostrazione sul come preparare l'Irish Coffee. In un bicchiere riscaldato aggiungere uno o due cucchiaini di zucchero integrale di canna. Versare 90 grammi di caffè caldo, meglio se americano, fino a raggiungere circa i 4 quinti del bicchiere e mescolare ancora. Unire 25 millilitri di whisky e mescolare bene. A questo punto versare la panna semimontata. Una spolverata di cacao non guasta. Il vostro Irish Coffee è pronto per essere servito e sorseggiato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS